Musica Buongiorno, siamo del TG9 Trinita, possiamo farvi alcune domande? Sì, certo! Chi trova un amico è tramonto d'oro, tu hai degli amici? Sì, sì, certo, ho tantissimi. Siete una bella squadra, davvero. Come fai a capire se un amico è sincero oppure no? Beh, se mi aiutano sempre e mi fanno una gentilezza, sono sicuramente degli amici. Bella risposta! Sei mai rimasto in uso da qualche amico? Sì, alcune volte perché mi hanno tradito nel momento del bisogno e non mi hanno potuto aiutare, però ora so che mi posso fidare dei miei nuovi amici. Wow, siete davvero profondi! E ora Alina torna allo studio!